Sì, ok Ok, va bene Sì, sì, ho chiamato sempre io Ascolti, non può venire nessuno della Digos perché stanno nuovamente occupando le case confiscate alla mafia qui accanto al condominio di via Mirai Ocani Va bene, arrivederci Sì, sì, sì Sì, sì Sì, pronto Sì, buongiorno Io chiamo dal condominio di via Mirai Ocani Ci sono delle persone che stanno forzando dei cancelli e stanno entrando in delle abitazioni confiscate alla mafia Sì, sì, sì Sì, 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 sì Grazie.